Ripresa degli allenamenti per l'udinese di Stefano Colantuono dopo la cocenta sconfitta contro il Frosinone nella città Ciociara, il 2-0 che ha lasciato ovviamente qualche scoria per la squadra bianconera per quanto riguarda il morale e non solo una sconfitta a cui cercare di porre rimedio immediatamente con una gara complicata, a dir poco contro la Roma di Luciano Spalletti che arriverà a Udine, ovviamente forte dei sette successi consecutivi ottenuti in campione. Con delle medie gol altissime, una media punti anche che sta tornando a essere quella della Roma d'inizio stagione dopo una fase centrale di campionato in cui la formazione giallarussa ha avuto molti, moltissimi problemi che hanno portato addirittura al cambio di panchina con Garcià che ha salutato ed è arrivato appunto Luciano Spalletti, un cavallo di ritorno. L'Udinese che domenica si presenterà di fronte ai propri tifosi con la voglia di cancellare Frosinone, con la voglia anche di chiedere a loro modo scusa dopo una prestazione forse la peggiore del campionato contro la formazione di Roberto Stellone. Notizie che arrivano ormai consuete da quella che è la giornata di lavoro del martedì con un gruppo che si sta allenando sul campo 3, ovvero il gruppo dei giocatori che hanno preso parte per praticamente 90 minuti alla partita di Frosinone. Felipe che invece manca questo allenamento per lui, allenamento differenziato, si tenterà ovviamente di recuperare il difensore italo-brasiliano per la sfida contro la Roma così come si tenterà di recuperare Vague, allenamento personalizzato per lui che ancora sta smaltendo i postumi di un fastidioso infortunio. Non c'era di Natale personalizzato anche per lui, differenziato invece ancora una volta per Merkel. Poi tutto il resto del gruppo si è allenato agli ordini di Stefano Colantuono sul campo 4 del centro sportivo Dino Bruseschi, tutti coloro che non hanno preso parte alla gara di Frosinone. C'erano aggregati al gruppo anche i Niges, il classe 94 che ha ben figurato nel fine settimana con la primavera nella gara persa 4-3 contro il Cesena e c'era anche ovviamente Maurizio Domizzi e lui la notizia del giorno reintegrato in gruppo dopo un lungo infortunio. In difesa se non dovessero recuperare Felipe Vague e anche Domizzi potrebbe anche proporsi per una maglia contro la Roma, vedremo ancora presto ovviamente però tutte quelle che potrebbero essere le scelte tattiche di modulo e di interpreti. Vedremo poi con l'Antuono in settimana come andrà a studiare la Roma, una squadra non facilissima da affrontare anche se avrà sulle gambe le fatiche di Champions League però è comunque la squadra forse più in forma del campionato, ci vorrà al di là del modulo e degli uomini in campo il massimo dell'atteggiamento, quello visto contro l'Ellas Verona nell'ultima gara casalinga o forse anche qualcosina di più.